Due giorni di incontri a Bruxelles per il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, nell'ambito delle attività del Comitato Europeo delle Regioni, di cui lo stesso Mazzeo è membro dallo scorso 20 gennaio. Dal tema degli affitti all'agricoltura, alla rimozione dell'amianto, abbiamo affrontato, dice Mazzeo, tematiche che impattano direttamente la vita dei cittadini. In questi due giorni abbiamo trattato tante questioni che riguardano la vita delle cittadine e dei cittadini della nostra regione, della Toscana. Abbiamo discusso relativamente agli affitti brevi in modo da poter offrire regole più chiare, maggiore trasparenza. E poi abbiamo definito una iniziativa tesa a ridurre l'uso di pesticidi in agricoltura in modo da sostenere le api che sono fondamentali nel nostro ecosistema. E infine la necessità di lavorare perché venga rimosso dovunque in tutta Europa l'amianto. E noi su questo, come Toscana, avevamo già iniziato a lavorare con un'apposita regge regionale. Infine l'impegno che mi prendo, e questo per una regione come la nostra è fondamentale, è che nella prossima sessione plenaria si discuta e si dica che siamo contrari all'etichetta sanitaria sui vini proposti dall'Irlanda. Siamo contrari perché questo è un modo sostanzialmente per toccare il nostro tessuto produttivo, la qualità delle nostre produzioni. E credo che ognuno di noi debba fare una battaglia perché resti anche in questo caso dalla parte giusta della storia, quella a sostegno di chi produce e di chi investe sui nostri territori. La Toscana è una terra che non si è mai voltata all'altra parte, così i suoi cittadini. Credo che però sia importante ancora di più in questo momento mandare un messaggio forte insieme a Fratres, dire che donare sangue vuol dire donare vita e chiedere a ognuno dei cittadini della Toscana, che può farlo, di fare la propria parte. È importante ancora di più in questo tempo e credo che le istituzioni debbano avere anche il compito di sensibilizzare in questa direzione. La ricetta per la felicità, donare vita, donare sangue, è lo slogan lanciato da Fratres Toscana nelle farmacie della Toscana che consegnano le medicine all'interno di sacchetti di carta brandizzati proprio per promuovere le donazioni. Dopo aver distribuito oltre 2 milioni di buste per il pane nei panifici toscani nel periodo della pandemia, oltre un milione di bustini di zucchero a forma di cuore in occasione di San Valentino 2022 e mezzo milione di tovagliette con il cruciverba del donatore la scorsa estate, Fratres ha scelto questa nuova iniziativa per raggiungere i potenziali donatori. Abbiamo voluto tentare sulle farmacie, cioè in questi luoghi che comunque sono frequentati da numerosissime persone e molte delle quali magari anche sensibili a questo argomento che è la carenza appunto del sangue, come abbiamo registrato soprattutto nell'anno 2022 e quindi nell'intento di cercare di prevenire quello che l'anno scorso è stato un brutto momento per la grossa carenza delle donazioni. Ecco che abbiamo messo in campo da qualche giorno a questa parte questa nuova campagna. In senso generale la Toscana ha perso circa 4,5% delle donazioni globalmente la Toscana. Noi come Fratres siamo riusciti a mantenere la perdita all'1,87%. Comunque in termini numerici per noi sono circa 1.200 donazioni sulle 63.000 che di norma facciamo. Quindi è comunque pesante, soprattutto la carenza dell'anno scorso che era stata una carenza di donazioni su tutto il territorio nazionale ha messo in crisi il sistema trasfusionale e quindi comunque il sistema sanitario perché non era neanche facilmente riferibile il sangue dalle altre regioni che normalmente invece in certe situazioni danno supporto alla Toscana. Assolutamente c'è bisogno di donazioni, c'è bisogno di nuovi donatori. Noi sappiamo che la Toscana ha una grande realtà di associazioni che riescono a tirare, a convincere tante persone ad andare a donare, però non siamo ancora sull'autosufficienza di sangue che sarebbe un obiettivo veramente importante da poter raggiungere. Sappiamo che è importante donare il sangue, è importante donare il plasma e allora ecco questa iniziativa di Fratres oggi è un'iniziativa fondamentale perché appunto la Fratres come le altre associazioni hanno un ruolo di andare a cercare i donatori, a parlare con ognuno di noi, con i ragazzi più giovani anche in vista delle future donazioni, con le famiglie, con le scuole, per far capire anche con piccoli gesti, anche quando si compra il pane, anche quando appunto si va in farmacia ora a comprare un farmaco, ricordarsi poi che con un piccolo gesto si può aiutare le persone quando stanno male, il sistema sanitario a funzionare, la produzione di farmaci importanti per la salute di tutti noi. Quindi veramente è una scelta che ognuno di noi ha e che le associazioni ci ricordano di poter fare e che serve a tutto il sistema sanitario. Alla centrale operativa del 118 Pistoia Empoli conferita la targa del Consiglio regionale della Toscana, un riconoscimento importante per gli ottimi risultati ottenuti anche come cross centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario, coordinamento, punto di riferimento per le emergenze nazionali ed internazionali. Questo è un riconoscimento a un'attività di punta perché è quella che magari ha più visibilità anche sui media e che esce da confini regionali. Siamo stati gli attori di sfide importantissime durante la pandemia. Ricordo che noi abbiamo fatto operazioni di Medevac che vuol dire trasferimento di pazienti, pazienti gravi, molto gravi, tutti da terapia intensiva, la maggior parte con il Covid ma poi anche i pazienti che sono venuti dall'Ucraina, dalla Turchia, pazienti dalla Libia, un'operazione che ha riguardato quasi mille pazienti, che è la più grande operazione che c'è in letteratura dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi purtroppo siamo stati artefici, anche spettatori di eventi che hanno travaricato anche il puro immaginario di pochi anni fa. Un motivo d'orgoglio, un elemento di innovazione che vogliamo si rafforzi perché è un elemento fondamentale che abbiamo visto essere determinante in tanti momenti purtroppo drammatici del nostro Paese a cominciare dall'emergenza Covid. Questo è un riconoscimento a tutti i professionisti, al coordinatore, ovviamente a tutti i volontari che per noi sono una ricchezza fondamentale che contraddistingue la nostra regione. Punto di riferimento aggiunge il Presidente Mazzeo che deve avere il supporto delle istituzioni e noi ci impegneremo in questo. Noi dobbiamo continuare ad investire su di loro, dobbiamo costruire le condizioni perché si innovino anche con nuove tecnologie perché davvero è un gioiellino della nostra regione che va preservato e valorizzato. Voto unanime per la legge che formalizza l'esistenza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, anche con fonte legislativa regionale, per agevolarne i compiti di elaborazione e definizione degli accordi, delle forme di coordinamento, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi. Ad illustrare il passaggio in aura il Presidente della Prima Commissione, Giacomo Bugliani. Nel 1981 i Presidenti delle Regioni avevano dato vita a una conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Questo per favorire la concertazione di politiche comuni e per partecipare anche in modo unitario e maggiormente compatto alla formazione delle leggi nazionali e di quelle europee. Lo scorso 6 dicembre c'è stata un'intesa che è uscita dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni che ha avuto lo scopo di istituzionalizzare l'operatività della conferenza. All'interno di questa intesa sono state fissate le modalità di Costituzione e anche il regolamento, nonché le finalità di questo organismo. E si è altresì previsto che ogni singola Regione con propria legge vada ad approvare e a recepire questa intesa. In armonia quindi con quanto disposto dalla nostra Costituzione, ma anche dallo Statuto della Regione Toscana, ovvero che si favoriscano le intese tra le Regioni e che queste intese siano recepite con legge regionale, oggi il Consiglio regionale ha con legge approvato l'istituzionalizzazione e quindi la continuazione stabile di questa conferenza dei Presidenti delle Regioni, prevedendo anche una serie di norme di dettaglio, ma soprattutto recependo il contenuto di quell'intesa. Allora quando l'ultima delle Regioni italiane con propria legge regionale approverà questa intesa diventerà quindi un organismo permanente la conferenza dei Presidenti di Regione che di fatto è già operativa dal 1981, ma che a questo punto diventa un organismo stabile del coordinamento tra le Regioni italiane. Come detto l'atto passa con voto unanime. Si tratta di istituzionalizzare quell'organismo, cioè la conferenza delle Regioni che già esisteva in pratica ormai da tempo. Le Regioni con le varie riforme nel corso degli anni hanno assunto sempre più potere, sempre più autonomia, sempre più temi e hanno iniziato a confrontarsi tra loro, hanno iniziato a interlocuire tra loro giustamente, hanno iniziato a portare avanti anche battaglie comuni, perché spesso e volentieri una battaglia nasce in una regione ma è sposabilissima da un'altra, anche a differenza a volte di connotazione politica dei governatori. E quindi è un ente che ormai da tempo lavora in autonomia e in sinergia. Ci è sembrato giusto istituzionalizzarlo, è una richiesta tra l'altro che arriva da tutte le Regioni, quindi sia dalle Regioni governate dal centro-destra sia da quelle del centro-sinistra e crediamo che quest'atto serva a dare più dignità, più rappresentatività anche nei confronti del Governo nazionale e a questo organismo che di fatto esiste ed opera nella quotidianità ormai da tempo. Lo sport cosiddetto, che poi in realtà non lo è, cosiddetto minore, è un aspetto determinante per la socializzazione, per far crescere bene i nostri ragazzi, per trasmettere dei valori importanti. Rendiamoci conto che anche per questa società sportiva di direttanti in realtà ci sono scuole per circa 300 ragazzi del territorio, quindi un valore immenso e noi dobbiamo dirgli grazie. La società calcistica Santa Maria del Monte ha raggiunto il traguardo storico dei 100 anni oggi al Consiglio regionale, naturalmente una targa celebrativa per il lavoro svolto nell'arco di un secolo. Questa per noi è un'emozione importante anche perché non pensavamo di poter essere accorti in una cornice così e avere dei riconoscimenti per noi piccole società di realtà artistiche importanti. Il mondo dello sport non è soltanto la partita della domenica, non è soltanto il Giro d'Italia, non è soltanto il Tour de France, non è soltanto la palla a volo della domenica, ma è tutto questo mondo che ci permette effettivamente di tirare fuori campioncini, di tirare fuori eventualmente ragazzi che poi dopo ci possono portare in alto il nome dell'Italia, ma soprattutto è il messaggio che noi andiamo a dare ai giovani, tirarli fuori da casa, tirare fuori dai computer, ma portarli a fare attività perché tutto questo poi dopo comporta anche sicuramente una vita migliore, con delle regole migliori e io dico sempre che gli istruttori sportivi in questo momento sono l'ultimo avamposto per l'educazione dei ragazzi. Come si riesce a portare avanti un lavoro così importante per una società come la vostra? Il lavoro è difficile perché siamo piccoli pur avendo oltre 300 iscritti fra ragazzi, per questo il nostro scopo fondamentale è quello di cercare di fare sociale, per questo di dare la possibilità ai ragazzi a poter fare sport in salute, cercando anche di poi dargli qualcosa di sportivo che se qualcuno ha delle doti particolari si spera di poter, che possa arrivare a livelli buoni come è stato il nostro concittadino Romano Fogli. All'interno della società si sono susseguite tantissime generazioni nel corso degli anni, tra tutti spicca la figura di Romano Fogli che sul campo ha calcato palcoscenici importanti come il Bologna, come il Milan, fino ad arrivare a una carriera ovviamente di allonatore molto molto lunga e piena di soddisfazioni. Ma quest'anno facciamo anche diversi festeggiamenti in onore suo abbinato ai cent'anni della nostra società. Tante le generazioni passate appunto in un secolo, tra cui insomma spicca Romano Fogli, che cosa vi contraddistingue per questa longevità poi anche? Sì, e poi per una cosa, perché Romano, da cui noi prendiamo spunto, dove la nostra scuola calcio è intitolata a lui, cerchiamo di essere leali, sportivi e di cuore buono, perché Romano è una persona molto disponibile, infatti apprezzato e gli vogliono bene da tutte le parti. Ecco, Romano Fogli è stato uno dei grandi personaggi usciti da questa società. Ebbè, Romano ho avuto il piacere di conoscerlo, quando poi faceva l'allenatore, da Toscani ci siamo visti spesso, ci siamo trovati spesso e io sono venuto a conoscenza appunto di questo centenario proprio partecipando a manifestazioni nel ricordo di Romano. Mi ha chiamato Mirko, il figlio, siamo stati insieme e lì ho scoperto appunto la data di fondazione di questa associazione, per cui abbiamo ritenuto opportuno, l'ho portata all'attenzione del vicepresidente Casucci, l'ha portata al presidente Mazzeo e abbiamo ritenuto che fosse opportuno che tutte le società, non soltanto loro, ma tutte le società che hanno compiuto un percorso così lungo, faticoso e che sono ancora lì a prestare servizio, andassero valorizzate. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS